L'osservatorio sta facendo veramente tante cose. Già l'anno scorso aveva proposto la cedolare secca per gli immobili commerciali, fondamentale perché questo settore è rimasto un po' indietro rispetto al mercato del residenziale. Detto ciò si muove su tanti altri ambiti, sicuramente su una tassazione equa in genere per la prima casa, questo è stato il primo passo, ma in genere per tutte le proprietà perché la proprietà privata sia un bene da godersi, una libertà e non un peso.